ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a visionare oggi è lo zenith pilot automatic il nuovo zenith pilot automatic e dico nuovo perché rappresenta la nuova collezione di pilot nel catalogo di zenith è uscito recentemente a marzo all'inizio di questo anno ma solamente oggi riesco a metterci le mani sopra e lo porto sul canale cosa va a rappresentare va a rappresentare più che il restyling dei vecchi modelli pilot proprio una nuova concezione di orologio una nuova concezione di pilot più moderno più al passo con i tempi quelli del passato della precedente collezione non rientravano appieno nei miei gusti devo dire la verità ogni volta che andavo sul sito web di zenith rimaneva un po perplesso e scartavo saltavo a più e pari completamente la famiglia degli zenith pilot 43 mm uno stile un po particolare che si faceva al passato ma molto particolare insomma non gli ho mai preso in considerazione questo nuovo qua che presento oggi è abbastanza più appetibile a parer mio naturalmente ho scelto la versione acciaio perché rientra più nei miei gusti c'è poi anche la versione in ceramica nera che è molto particolare poi ci sono le due versioni cronografo flyback con grandata lì è tanta roba e si va proprio un pochino più sul sul costoso questo qua credo sia quello più appetibile anche per la maggior parte delle tasche degli appassionati no al prezzo di listino minore rispetto agli altri quindi l'ho portato sul canale e per questo devo ringraziare l'amico giacomo della gioielleria pasquali domenici di viareggio che me lo ha messo gentilmente a disposizione come sapete la gioielleria è partner ufficiale del canale agevola me e mette a voi nelle condizioni di avere un trattamento di favore a voi che guardate proprio tutti 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 anche quelli non iscritti è proprio per dire basta che andate e fate presente che volete il prezzo migliore diciamo così ora prima di guardare l'orologio vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo omega seamaster professional il diver di casa omega con il suo bellissimo calibro 8800 con scappamento quassiale e tutte quelle belle cose lì 42 mm di diametro cassa che a me stanno benissimo che un diver deve avere queste queste dimensioni no poi ci sono gli skin diver quelli da 38 mm da 39 40 mi piacciono tutti 42 è un orologio diver per antonomasia ora vorrei fare una piccola precisazione tecnica ossia siccome io sono un divulgatore sono un appassionato non sono un tecnico un esperto toglietevi dalla testa tutti questi epiteti io sono semplicemente un appassionato che divulga quindi per parlare della parte tecnica del calibro mi sono avvalso non della facoltà di non rispondere ma bensì di un noto portale una testata giornalistica importante quindi alcune informazioni l'ho prese da lì giusto per fare poi vedrete anche in sovrappressione qual è la fonte giusto per far vedere che non le invento io ma sono scritte lì adesso giriamo la camera guardiamo l'orologio e poi ci ritroviamo qua come al solito per le considerazioni finali partiamo come di sovente enunciando i risultati ottenuti dalle misurazioni diametro cassa 40 mm spessore 13 mm ingombro trasversale al polso 49.6 e interasse ansa da 20 mm diciamo che è un netto cambio di stile rispetto agli zenith pilot del passato già a partire dalle dimensioni 40 mm per questa tipologia rappresentano per me la misura ideale non si tratta di fligger necessariamente sovradimensionati e neppure di complicati strumenti atti a restituirci le funzioni dedicate al volo sono semplici pilot ispirati ai pionieri dell'aviazione che fanno della semplicità la loro carta vincente la summa delle dimensioni ci restituisce una proporzionata presenza al polso certo spiccano i quasi 50 mm di lag to lag ma un minimo decisivo vogliamo averla in fide conti si tratta di uno stile ispirato al volo e al mondo militare non vuole essere e non deve essere né sottile né compatto per quello scopo ci sono altri zenith su cui puntare ciò non significa che non sia a modo suo prezioso e curato il primo dettaglio da cui lo si evince è sicuramente rappresentato dalla qualità delle finiture esterne è difficile riuscire a spiegarlo utilizzando le parole una qualità di lavorazione che si percepisce al colpo d'occhio subito appena preso in mano osservandolo poi più attentamente si vede quanto la spazzolatura sui piani sia stata realizzata con accuratezza in quanto le striature finissime tendono ad avere un punto di fuga unico posizionato sulla punta delle anse molto ben realizzata anche la smussatura lucida che corre lungo tutta la lunghezza della carol anche al di sotto della lunetta laddove raggiunge la sua larghezza minima lunetta che apporta qualcosa di tutto sommato poco visto ci troviamo di fronte ad un profilo inclinato lucido che si appiattisce sulla sommità si crea così una superficie ad anello pianeggiante che mette di nuovo in mostra una spazzolatura longitudinale alquanto accattivante qui mi viene da sottolineare la corretta dimensione della larghezza il rischio era di farla troppo larga e quindi smaccatamente visibile cosa che avrebbe comportato una strizzata d'occhio troppo palese alle linee di altri orologi a caratterizzare lo stile come sempre contribuisce anche la corona di carica che in questo caso è a pressione completamente ridisegnata rispetto ai vecchi pilot pur presentando una sagoma ristilizzata secondo i canoni contemporanei riesce a mantenere quel gusto retro tipico della precedente corona cipolla la resistenza alla pressione definita in 10 atmosfere un dato che permette di poterlo utilizzare in qualsivoglia ambiente senza particolari attenzione se non quella di verificare all'occorrenza che la corona si trovi in posizione chiusa in solito e poi il fissaggio del fondello alla cassa quattro viti perimetrali che evidentemente svolgono a dovere il loro compito da notare l'esiguo diametro delle viti stesse quasi invisibili e sicuramente ben integrate nel design del lato b appaiono in pratica come quattro minuscoli puntini poco invasivi e fa poi piacere poter constatare che nonostante il fondello trasparente sia stato scongiurato all'effetto ciambella i 40 mm di diametro cassa consentono ancora di ottenere una corretta proporzione tra anello d'acciaio e vetro zaffero vetro che mette in mostra il calibro di manifattura zenith 3620 ossia la versione solo tempo del famoso e il primero cronografo lo stesso calibro che vediamo utilizzato sullo zenith defy skyline con i piccoli secondi ad ore 9 questo meccanismo conserva alcune caratteristiche del calibro 3600 come la carica automatica tramite rotore bidirezionale 60 ore di autonomia 36.000 alternanze e ancora e ruota di scappamento in silicio ben riconoscibile perché presenta quella particolare tonalità violacea pur partendo dal calibro 3600 in questo movimento zenith non si è limitata a rimuovere semplicemente il modulo cronografico ha creato un movimento del tutto nuovo ha reingegnerizzato il treno del tempo per puntare a una trasmissione dell'energia ottimale costante non dimentichiamo che lavora pur sempre a 5 hertz una constatazione di fatto è poi rappresentata dal numero di rubini presenti in questa versione 27 quando nelle specifiche degli altri orologi è riportato 26 non mi è dato sapere il motivo del rubino in più né dove sia posizionato ma la logica può venirci incontro nello zenith defy skyline i piccoli secondi ad ore 9 sono collegati direttamente allo scappamento mentre qui occorre una ruota in più per demoltiplicare quella dei secondi centrali in ogni caso si tratta di un ottimo calibro completamente di manifattura ed uno dei pochi solo tempo a 36.000 alternanze presenti sul mercato odierno ma ruotiamo l'orologio e diamo uno sguardo al quadrante davvero pilot qual è mette in mostra un insieme di elementi che mettono in primo piano la leggibilità accenti bianchi su fondo nero e il contrasto funzionale è garantito certo ma chiunque sarebbe capace di utilizzare queste due caratteristiche mentre zenith riesce a farlo senza far venire meno la sua proverbiale classe la finitura del quadrante ha solchi ondulati orizzontali che mirano a ricordare le fusoliere degli aerei di un tempo piacevole lavorazione che porta con sé anche una certa tridimensionalità di fondo a contrasto troviamo poi dei numeri arabi applicati in rilievo che vedono una cornice metallica lucida fungere da contenitore al pigmento luminescente il tutto condito dall'equilibrio generale che viene ottenuto grazie alla finestra del datario sapientemente posizionata ad ore 6 da notare poi quel segmento orizzontale posto sul datario stesso che ha lo scopo di emulare la strumentazione dedicata all'orizzonte artificiale degli aerei inutile dire che anche le sfere sono perfettamente distinguibili con quella dei secondi particolarmente spessa forse troppo benvenga il riuscire a comprendere al volo che l'orologio sta marciando correttamente ma a parer mio potrebbe confondersi con le altre due e trarre in inganno un osservatore poco attento in pratica si può rischiare al colpo d'occhio di leggerla come se fosse quella dei minuti cosa che invece non può accadere in assenza di luce in quanto solamente il segmento geometrico romboidale reagisce diventando luminescente una leggibilità che direi ottima e duratura nel tempo in ultima analisi parliamo del cinturino presente sull'orologio ossia un cauccio nero con effetto cordura ma ogni orologio giunge con doppio cinturino l'altro è in pelle di vitello marrone questo in dotazione particolarmente interessante in quanto vede la parte esterna lavorata con una trama ruvida e quella interna a contatto con il polso in gomma naturale liscia e morbida non mi sbilancio sulla comodità in quanto è un parametro strettamente legato all'utilizzo nel tempo mi limito a riconoscergli un'eccellente qualità costruttiva così come è pregevole la chiusura deployant singola che vede l'attacco allo spezzone lungo realizzato tramite la classica fibbia ed ardiglione c'è poi il sistema di sgancio rapido del cinturino un sistema che non ho mai visto prima e che mi ha particolarmente colpito per l'ingegno e per la semplicità occorre premere quella linguetta in acciaio ben visibile e così facendo l'estremità del cinturino ruoterà lasciandolo libero della spring bar che rimarrà fissata alla testa per rimontarlo non occorre neppure spingere basta forzare ad incastro i punti forti sono la semplicità di utilizzo e la sicurezza di aggancio possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali inutile dire che l'orologio è promosso sotto tutti i punti di vista a partire dal marchio zenith è una di quelle poche case che costruisce tutto sotto lo stesso tetto o quasi tutto lo stesso tetto che è lì dalla fondazione alle loc da sempre a volte penso che se ci fosse un marchio un unico marchio da collezionare quello sarebbe zenith perché rappresenta un po l'essenza dell'orologeria sia a livello di tecnica di costruzione di storia ma anche di marketing che al giorno d'oggi va tanto no perché perché è un marketing sotto traccia non è un marketing urlato non si rifà ai parti celebrativi con le star non mette al polso orologi a personaggi influencer non non è da carta patinata è un marketing sotto traccia un certo understatement che la porta poi a cullare il cliente quando vai a visitare il museo la quando vai a visitare la manifattura ti presentano tutta una serie di soluzioni atte a soddisfare le tue esigenze faccio un esempio c'è un amico del canale che è andato in visita quest'estate non era presente l'hanno accolto naturalmente con mille e mille tappeti rossi non era presente il mastro orologiaio che poteva spiegare determinate cose bene l'hanno invitato a tornare a settembre con aereo albergo pagato ora io non so questo è il marketing questo è cullare il il cliente questo è fargli percepire quello che è zenith chiaramente quando compri l'orologio una parte di quei soldi dell'orologio vanno in marketing no poi marketing può essere quello su instagram urlato compra questo ultimo orologio che è bellissimo il lusso super accessibile oppure può essere il fatto di avere il museo edicolare il cliente quando vuole sapere le nozioni tecniche questo è il marketing di zenith a differenza anche di certi brand italiani di cui non voglio fare il nome che urlano che sparano i 420 va bene ma questo è un altro discorso l'orologio di per sé non presenta neppure dei difetti cioè è l'unico punto che potrei anche farvi presente è che avete visto che quando ho smontato il centurino con lo sgancio rapido ho dovuto utilizzare uno strumento esterno un utensile ma chiaramente di gomma di plastica modo da non graffiare per fare pressione sulla levetta perché perché con il polpastrello con l'unghia non ci sono riuscito ora non mi ha dato sapere se l'avevano progettato per utilizzarlo con le dita che quindi io ho fallito oppure se semplicemente basta questo una matita qualsiasi cosa per schiacciarlo e per togliere il centurino chiaramente tanto il centurino va tolto una volta che l'orologio è in terra quindi un minus poi così minus non è detto ciò io sono un amante degli orologi con bracciale in metallo e mi domando di quanto sarebbe salita la scimmia se questo orologio fosse stato presentato anche con un bracciale in metallo un bel braccialone di quelli no e vabbè non c'è quindi bisogna accontentarci del centurino che per molti è anche un plus non per me oh mi sembra di aver detto tutto dai ragazzi non vorrei aggiungere altro spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore o qualcosa di questo video magari un'inquadratura una una vabbè vi ringrazio quindi per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile naturalmente qui su youtube love